Mi ha tolto e dato tanto, perché poi anche questa è la cosa bella, quando si affronta un personaggio. Un film che a me mi era piaciuto molto, che è stato Rosetta dei Dardenne. Mi sa molto di casa, perché sono siciliana, sono di agrigento, quindi Ortigia mi ricorda molto il mio paese. Per una serie, Squadra Antimafia, in realtà volevo farla regista. Per il mio carattere, per la mia timidezza, non mi vedevo di fronte una macchina da presa. Poi un giorno accompagnai una mia amica a fare un provino. Di fronte alla macchina da presa, provai anch'io, stavo bene, mi sentivo a posto con me stessa. E da lì ho capito che era per me un'esigenza vitale. Agnese, in cuori puri, che è stato il mio primo film. Poi Luisa, in spaccaossa. E poi sicuramente Leonardo e in The Bad Guy. Era una bella responsabilità. Poi trovo sempre che il corto è il primo trampolino per i registi. Quindi attraverso il corto loro rappresentano quello che è il loro stile, la loro idea. Sicuramente il primo impatto è stato di pancia. Una cosa istintiva. Quando un lavoro, un corto, un film ti arriva, lo capisci subito. E poi abbiamo fatto anche un'altra serie di valutazioni tra sceneggiatura, recitazione, fotografia. Tutto un insieme proprio perché la qualità era molto alta. Nuovo il cinema paradiso.